Sbarca anche a Messina in Fludai la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale che in Sicilia si celebrerà mercoledì 13 dicembre. L'ASP di Messina sarà presente in piazza Unione Europea dalle 9 alle 13 con un camper attrezzato per l'esecuzione della vaccinazione da parte del personale sanitario dei centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione che praticherà la vaccinazione alla popolazione al rischio che ne farà richiesta. All'appuntamento con la città ci saranno anche il Direttore Sanitario dell'ASP Domenico Sindoni, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Salvatore Muscolino, il responsabile protempore dell'Unità Operativa Complessa SPEM Rosario Cuffari, il Presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo e il Consigliere dell'Ordine Aurelio Lembi insieme all'Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. La campagna di prevenzione dell'influenza è rivolta alla popolazione over 64, tutti i soggetti con patologie croniche, al personale che svolge servizi pubblici di primario interesse collettivo, ma anche alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, al personale medico e agli operatori sanitari.